Buongiorno a tutti! Oggi io e il mio amico Mattia faremo un nuovo itinerario sul CNN Documentary. No, ho sorto il telefono, solo vengono sorti le immagini. Oggi siamo sul lungolago di Maderno che è un bellissimo paese in... ...coscolano Maderno. Non l'avete già detto in verità. E niente, è un bellissimo paesaggio, Mattia mostra. Sì, non è che solo quell'albero marzo. Perfetto. La vecchia. E niente, oggi vi faremo un itinerario appunto sul posto, sul territorio, quindi sarà molto interessante. Però ora ovviamente vi faccio salutare dal mio amico Mattia. Però prima vi faccio fare quasi quasi una magia. Adesso vi passo alla linea. Ciao, sono Mattia e siamo al nuovo episodio di CSI Documentary. CMM! GAAA! E adesso faremo una magia. Ok. Well, I'm ready for the surprise. Ok, Mattia, ripassami la linea. Come vedete qua è sdraiato, guardate. I piedi callosi, c'è tutto, ok? Adesso Mattia scomparirà. 3, 2, 1, qui non c'è nessun Mattia, come potete vedere non esiste nessun tipo di essere umano. Vedete, vedete, vedete? Le magie dell'acqua. Ops! E' riuscita a venire in parte a me, ma non so come. C'erano usate neanche la pacchetta magica, ma me ne sono trovata in parte. Adesso io e Mattia siamo ovviamente qui, come vedete, strafili e molto vintage. Siamo sul nostro espone, quindi nel nostro territorio siamo anche, comunque, molto orgogliosi. E basta, adesso volevo mostrare. Comunque la magia esiste e bisogna crederti. Ciao. Anche negli anni. Anche negli anni. Sì, sì. Va bene. Vi saluto. Ciao belli. Ciao, ciao.